Funziona la cura di Silvano Fiorucci al capizzale della Trestina. La formazione ombra sul neutro del Corrado Bernicchi di Città di Castello riesce ad aggiudicarsi lo scalpo illustre dell'Aquila Montevarchi. Troppo supponente la formazione rosso-blu di Atos Rigucci. Di fatto non ha tirato in porta. Decide un calcio di rigore. Manca Biagi nel Montevarchi che a Città di Castello affronta una squadra in ripresa dopo il cambio tecnico. Aquilotti con il controcampo a Rombo. Disposti con il 4-4-2. Terminali offensivi Essussi e Tommassini. Quest'ultimo assai spento per la formazione di casa almeno per il calendario. Il classico 4-3-3. Si gioca subito alla luce dei riflettori in una giornata grigia e freddina. Fasi di studio. Al sedicesimo Mannella trova Essussi in aria. La sponda di petto è per il numero 20 Tommassini. Anziché tirare Essussi preferisce passarla. La difesa sbroglia. Al diciottesimo bella azione del Trestina con tiro di Ridolfi. Sporcato da Videtta e Pellegrini è attento a bloccare a terra. Venticinquesimo. Adrane Essussi non arriva a deviare bene il calcio d'angolo di Giacomo Gorini. Uno che Fiorucci conosce molto bene per averlo allenato. Trentacinquesimo. Villanova. Ridolfi sponda per Cordella. occasionissima Trestina. Alto il tentativo in girata. Si chiude il tempo quarantatreesimo Essussi per Tommassini. Salva Marconi il migliore dei suoi in corner e non ha esito. Il tiro dalla bandierina. Nel secondo tempo gli ospiti sembrano un po' più convinti ma il Trestina in contropiede non sfrutta. Una chance ghiotta al terzo. Al decimo punizione di Chiavazzo e Pellegrini devia di pugno. Alla quarto d'ora il momento topico della partita. Ingenuo Migliorini il fallo in area sul lanciato Marconi. Nessuna esitazione per il direttore di gara il signor Pistarelli di fermo. Dal dischetto si porta Mattia Ridolfi. Spiazza Pellegrini che aveva ad un certo punto intuito il tiro e la sfera si perde nel sacco. 1 a 0 sarà il gol partita. Montevarchi che corre ai ripari e al ventesimo espulso Fiorucci per proteste. Momenti concitati con qualche battibecco anche in tribuna ma si prosegue. Al ventisettesimo Rossetti va giù in area. Chiede un fallo da rigore che non c'è. Al trentatresimo buona la percussione del nuovo entrato di Arasoba. Cross per Migliorini che calcia malamente è l'ultimo guizzo di un'aquila troppo opaca per far risultato meglio il Trestina che merita i tre punti. L'errore è mio perché il campo giocatori ce li mando io e è giusto quando le cose non vanno bene sia l'allenatore a metterci per primo la faccia e poi dopo ne parleremo nello spogliatoio. Di sicuro è una partita 0 a 0 perché è stata brutta la nostra ma è stata brutta anche la loro. Mi ricordo un'azione se non su una palla sporca. hanno fatto gol. Sono stati più bravi perché hanno vinto 1 a 0. Quindi complimenti a loro. Però insomma noi con questo atteggiamento siamo cascati un po' nella trappola dell'agonismo, del perditempo, di cominciare la spintina e cose. Noi come De Polli ci siamo cascati e loro non hanno tratto la vittoria. Quindi noi bisogna essere invece un altro tipo di squadra. A me piace più ignorante, più incazzosa. Invece non lo siamo stati. Ma gli ho detto a giocatori. La colpa è mia e un pezzettino per ogni giocatore. Però non facciamo drammi perché insomma domenica avevamo vinto una gran partita in casa. Quindi ci stanno il calcio. Sono anche errori di gioventù. Errori di gioventù, errori che non si dovrebbero commettere. Però è anche vero che il nostro campionato non era bello di stare nelle prime 3-4 squadre. Se ci troviamo è perché abbiamo fatto bene finora. E quindi noi ci vogliamo rimanere ma non è così facile. Quindi possiamo vincere e perdere con tutti. Però bisogna avere un altro atteggiamento sicuramente. Facciamo un grande mea colpa e andiamo avanti. E a Correggio con la sana ignoranza come dice Regucci. Ci vuole. Se no facciamo un'altra figuraccia. Quindi a me non è che mi piaccia tanto fare le figuracce. Credo nemmeno ai miei giocatori. Anzi che finora hanno fatto strabene. Però non bisogna addormentarsi. Bisogna continuare a spingere forte. Sinceramente oggi sono più contento di domenica. Con Sansepol che è stata una partita strana. Il primo tempo sembrava che noi stassimo facendo sfraceli 2-0 semplici e poi ci siamo un bracino molto corto. Siamo riusciti a farli recuperare le situazioni ma loro stavano giocando meglio quindi avevano meritato. E poi all'improvviso ho preso il 2-2 la squadra ripartita. Quindi è difficile anche decifrare una squadra sotto l'aspetto tecnico. Non solo tecnico. È un caratteriale perché vai in giochi brillanti. Poi subisci. Oggi invece hanno fatto la partita tosta. Contro una squadra difficile come Montevarchi che ha qualità forza fisica. Centimetri. Era la cosiddetta partita. Io la chiamo sporca. Partite sporche in cui o ci sei o prendi una lezione di calcio. Ci sono stati momenti che abbiamo sofferto perché obiettivamente c'è qualità. Ne conosco tantissimi nel Montevarchi. Corini l'ha allenato. È allenato due anni quindi sapevo benissimo che a volte troviamo... Ha fatto anche marcare bene diciamo. È andata, sì, capito. E non ha mollato mai. Poi è andata che abbiamo vinto. Primo tempo sinceramente Montevarchi molto più possesso, molte più situazioni però le palle pulite. Gli ultimi 20 metri ne abbiamo avuto 3-4, sono importanti che però ripeto c'è. Stiamo in fondo alla classifica solo grazie. Ho già detto però che domenica c'è un'altra. Quindi bene abbiamo vinto, contento della vittoria ma adesso pensiamo già a quella di domenica.